Una nuova autostrada digitale per imprese artigiani. È quello che può rappresentare la fibra ottica ultraveloce FTTH di Open Fiber. Oltre a realizzare gli oggetti che faccio su committenza, per me è fondamentale anche raccontare questo e divulgare ai miei allievi. Così ho una serie di corsi, di masterclass che sto realizzando e che sto finalmente mettendo in rete che mi consentiranno di insegnare il mio metodo di lavoro, che è il Dream & Draft, in qualunque parte del mondo. Le botteghe una volta avevano le vetrine su strada, adesso hanno le vetrine sul web. La mia attività da quando esiste la fibra è cambiata completamente perché posso finalmente girare video e esportarli velocemente, caricarli sui portali velocemente. Tradizione e innovazione vanno sempre di pari passo. In ogni epoca c'è la tradizione, in ogni epoca si lavora in un certo modo e in ogni epoca si sviluppa l'innovazione. E con la nuova fibra ottica ultraveloce saranno sempre di più i servizi a disposizione di cittadini e aziende. Questo studio è raggiunto da una tecnologia FTTH, Fiber to the Home, che consente una connessione veloce e stabile e garantisce l'utilizzo di supporti moderni ad oggi presenti e anche quelli che arriveranno nel futuro. Per capire la differenza che c'è da una vecchia rete alla rete FTTH, possiamo immaginare di viaggiare in un'autostrada a otto corsie e poi fare lo stesso viaggio sulla provinciale dove incontreremo traffico, rotonde, semafori che rallenteranno molto il nostro passaggio. La rete FTTH garantirà e garantisce già ad oggi una serie di servizi evoluti che l'utente finale, che non è solo un'azienda ma saranno anche le famiglie che lo utilizzeranno, potranno accedere a streaming HD, 4K, alla pubblica amministrazione, a servizi online per l'acquisto di prodotti, e-learning, piuttosto che qualsiasi altro servizio che verrà posto sulla rete.